il più grande successo del diavolo è far credere di non esistere qui c'è tutto il capitolo della disinformazione, il più grande successo di questa guerra di Putin è aver fatto credere a mezzo mondo che lui sta facendo una cosa si difende dalla Nato o sta andando a salvare delle comunità russofone, per cui c'è gente che sostiene questa cosa il popolo italiano è sempre stato molto amico del popolo russo, continuerà a esserlo anche in futuro, ma non saper distinguere, aver saputo camuffare una guerra di aggressione con interessi molto specifici anche dal punto di vista economico stiamo parlando della zona più ricca di minerali e di terre rare che esiste in Europa stranamente questa zona, difatti è la zona dove una volta erano andati i minatori proprio perché c'erano i miniere, non soltanto di ferro ma anche di altri minerali e le coste conquistate hanno le più grandi riserve di gas sul bacino di quelle coste del mare, per cui non stiamo parlando di una guerra fatta per motivi diciamo nobili nessuna guerra normalmente viene fatta per questi motivi per cui questo è il suo più grande successo e anche il fatto di avere 10.000 persone che arrivano da un paese lontano e vengono a dare supporto anche quello è un salto di qualità se la Polonia avesse fatto la stessa cosa no perché poi alla fine tu paragoni no? lei pensi alle critiche occidentali se la Polonia avesse deciso di fare cito la Polonia perché è uno dei paesi che è più a paura dell'aggressione russa quello che ha fatto la Corea cioè la Polonia mandava 20.000 persone 10.000 in Ucraina cosa sarebbe successo? no ma sui giornali occidentali non parlo sui giornali russi nelle nostre televisioni lo scandalo allora vogliamo l'aumento della guerra sono arrivati 10.000 coreani armati forniti di materiale eccetera è come se fossero andati a fare una gita nel corso a vedere com'era la capacità di disinformazione è nata salve amiche e amici beh in questo caso non posso che essere d'accordo con il ministro Crosetto voglio dire l'ha presa in pieno la questione e sì è questo uno dei più grossi problemi fra l'altro oggi parleremo anche di questo del danno che fa la disinformazione che è manovrata strategicamente proprio da quelle nazioni che sono responsabili di questa invasione e ha centrato il punto anche quando ha parlato per esempio dei soldati nord coreani che se vi ricordate quando ne abbiamo parlato su questo canale le voci iniziali parlavano di addestramenti barbecue cose del genere gitarelle fuori porta comunque per dovere di cronaca credo di aver visto per la prima volta in vita mia più di 10 secondi di porta a porta complimenti allora la questione della disinformazione è un elemento cruciale se posso fare una riflessione così aperta io faccio parte di una generazione in cui se ti volevi informare dovevi fare delle ricerche dovevi usare il cartaceo ti dovevi prendere e uscire di casa e visitare una biblioteca per esempio queste erano le ricerche quando ancora non c'era l'internet ed è un po' un controsenso perché oggi come dire con tutto questo surplus di informazioni così facilmente accessibili in realtà c'è poi no? un'enorme diffusione della cosiddetta disinformazione quando ero giovane io che non c'erano tutte queste possibilità circolavano meno tutti questi complotti ed erano anche meno diffuse le riviste predatorie sì, per carità in televisione c'erano ancora pessime trasmissioni di cui non voglio fare il nome di personaggi che fra l'altro sono ancora in giro e si candidano alle europee ma detto questo voglio dire è un po' un controsenso che con tutta questa possibilità di informarsi poi in realtà in realtà poi le persone cadono molto facilmente nella spirale della disinformazione e l'ho visto anch'io sulla mia pelle attraverso tanti commenti che ho ricevuto questo è solo un microcosmo quello di youtube altrove su altre piattaforme queste influenze sono ancora ben più evidenti prendo per esempio un facebook qualsiasi che mi basta aprirlo una volta al mese se tanto e mi cascano le braccia ecco lì veramente c'è una presenza super massiccia di influenza russa per certe pagine di tema militare poi chiaramente l'algoritmo anche lì vi mostra tutto quello che volete vedere e anche quello che non volete vedere un problema sicuramente grave oggi è sicuramente tiktok ne parleremo molto oggi allora come sempre cari amiche e cari amici prima di iniziare se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un mi piace anche a questo video qui sotto ci sono i pulsantini per sostenermi iniziamo con gli attacchi odierni da parte russa all'Ucraina come sempre vengono prese di mira le infrastrutture energetiche questi simbolini ci mostrano giusto i punti di impatto delle città che sono state colpite fra ieri e oggi e decine di missili da crociera un centinaio fra oggetti vari droni missili sono stati lanciati la disposizione di queste concine ci mostra abbastanza evidente che le città che vengono prese di mira non hanno niente a che fare col Donbass con le zone diciamo correlate alle attività del fronte l'obiettivo è quello di stremare la popolazione privarla dell'elettricità del riscaldamento e in tutto questo il signor Vladimiro qui visita il Kazakistan e si vanta addirittura in conferenza stampa dice stanotte ha lanciato sull'Ucraina 90 missili e 100 droni metà popolazione non è allacciata alla rete del gas l'altra mezza per bere scioglie la neve insomma questa è la situazione mentre in Russia giustamente se uno deve andare in bagno deve prendere la bicicletta comunque il dittatore russo quando è arrivato in Kazakistan comunque è stato accolto anche da certi pannelli led che mostravano la bandiera ucraina si è parlato di un attacco hacker ne dubito onestamente molto difficile che sia stato un attacco hacker soprattutto perché questi pannelli probabilmente funzionano in locale quindi qualcuno ha caricato quella schermata di proposito colgo l'occasione anche per mostrarvi il viaggio di Vladimiro in Kazakistano dove è stato scortato da 2 su 35 che vediamo in queste immagini come vedete il territorio è innevato sono due aerei bi posto la cosa interessante è che in una rarissima eccezione ci viene mostrato l'abitacolo del bi posto questo è il sedile posteriore una cosa che si vede bene è che queste tecnologie sono sul recente su COI 35 sono 4MFD dove vengono ripetuti i dati di volo questo è l'ADI poi ci sono per esempio questo è un anemometro che mostra la lancetta mostra la cosiddetta IAS che sarebbe la velocità rispetto all'aria 9000 metri è qualcosa di quota indica che la CAS cioè la calculated airspeed è di 780 credo chilometri orari stanno viaggiando a una velocità di un jet di linea la discrepanza che notiamo fra i 600 chilometri orari rispetto all'aria e i 780 chilometri orari calcolati è perché l'aria ad alta quota è meno densa quindi lo strumento percepisce meno aria quindi la lettura è inferiore alla velocità rispetto al suolo è poco preciso è una velocità calcolata rispetto alla proiezione della propria ombra sul suolo quindi poi una cosa interessante che vediamo nel MFD centrale nell'HDD centrale questa qui è l'analogo del datalink occidentale dove vediamo per esempio questi simbolini sono gli aerei alleati che hanno l'IFF russo che appaiono in simbologia come dei cerchi questo si vedeva già sul Sukhoi 27 quindi è sicuramente una schermata interessante comunque Zelensky ha parlato oggi ha fatto un discorso in cui fa un po' il punto di alcune conversazioni private che ha avuto con responsabili della difesa americana a proposito delle autorizzazioni ricevute per l'utilizzo degli missili a lungo raggio quindi si è parlato dei ATACMS si è parlato dei già SSM si sarà parlato di questi sistemi ha parlato anche di ulteriori aiuti da parte americana per quanto riguarda sistemi di difesa che sono estremamente necessari in particolare in questo momento in cui l'inverno incombe anzi siamo già in pieno inverno in Ucraina con la neve quindi si è parlato di questo poi sono stati fatti anche altri discorsi in particolare da parte della difesa degli Stati Uniti in cui viene sintetizzato in questo articolo Kevin Kellogg inviato speciale di Trump per l'Ucraina la questione appunto della guerra ha parlato di ulteriori aiuti all'Ucraina ha detto dobbiamo fornire loro il necessario per combattere se l'Ucraina riesce a espellere la Russia sul campo Putin cadrà e questa è un'affermazione molto interessante perché appunto sembrano le parole che del nostro ospite di due giorni fa Maria dei comunisti comunità per i russi liberi infatti ha parlato esplicitamente lei dicendo che l'Ucraina deve battere la Russia sul campo se riesce a farlo Putin dovrà fare i conti con il suo stesso governo con la popolazione che gliene darà conto a proposito di questo le dichiarazioni americane hanno anche a che fare con gli ultimi attacchi russi sul suolo ucraino qui c'è una condanna molto critica oggi di Zelensky proprio sull'uso spreggevole delle munizioni a grappolo negli attacchi energetici sulle strutture energetiche e parla del fatto che oltre un milione di ucraini sono rimasti senza elettricità a causa delle temperature gelide dopo che la Russia ha lanciato un bombardamento di 180 oggetti oggi fra missili da crociera e droni contro i siti energetici del paese quindi questo è un grosso problema e sempre per restare nel dialogo fra Zelensky e le controparti americane c'è l'esigenza almeno il desiderio da parte dell'amministrazione attuale gli è stato chiesto letteralmente di abbassare la leva obbligatoria a 18 anni questo è un tema su cui ne abbiamo parlato anche altre volte è un tema importante che è abbastanza cruciale per l'esito della guerra per la forza lavoro per i soldati il numero di unità che l'ucraina può schierare sul campo che dire questo è un po' in contrapposizione rispetto a tanti commenti che ho ricevuto in passato in cui si parlava del fatto che gli ucraini non si facevano scrupoli di reclutare giovanissimi e questo ovviamente non è niente vero l'età della leva obbligatoria era inizialmente ai 27 anni 28 anni poi è stata abbassata recentemente a 25 anni quindi non c'è mai stato il desiderio di reclutare giovanissimi e questo per un motivo molto semplice per evitare un disastro generazionale per preservare proprio i più giovani il discorso che fa Zalewski a proposito di questo è che non è un problema di quantità di uomini è un problema di armi non ha senso reclutare così tanti ragazzi se poi non ci sono abbastanza equipaggiamenti per loro quindi è un po' come devo dire un passaggio di botta e risposta fra lui e l'amministrazione americana a proposito degli equipaggiamenti in un certo senso è vero nel senso che chiaramente Kiev ha bisogno di armi per poter colpire la Russia nelle sue basi strategiche da dove partono gli aerei e soprattutto al fronte soprattutto fra l'altro qui ecco introduco un paio di email da due persone diverse che ho ricevuto in questi giorni la prima la persona che me l'ha mandata mi ha chiesto esplicemente di restare anonimo però mi ha spiegato che un suo caro amico ucraino si trova al fronte proprio nel battaglione Azov e facendo delle chiacchierate con lui ha scoperto qual è la situazione secondo questo soldato ucraino in effetti i soldati hanno estremo bisogno di pezzi di artiglieria munizioni armi in generale hanno bisogno di mezzi hanno bisogno di tutto quello che serve per respingere queste ondate ha poi sottolineato lo stesso soldato ucraino che se gli ucraini si ritirano dai territori come abbiamo visto in questi ultimi giorni lo fanno infliggendo il massimo numero di vittime alle forze russe è un po' questa la strategia non importa perdere qualche campo non importa perdere qualche villaggio che non ha nessuna utilità strategica la cosa importante è infliggere il maggior numero di perdite alle forze russe detto questo è chiaro che è una situazione estremamente difficile ha parlato del fatto che ci sono state circa 150.000 vittime fra le forze ucraine ed è un numero coerente con quello che vi ho sempre riportato fino ad oggi forse leggermente inferiore a quello che viene detto pubblicamente da varie fonti incrociate questo è un problema non da poco se consideriamo che stiamo parlando solo di caduti poi bisogna aggiungere molti di più fra feriti mutilati e tutte le persone che insomma hanno subito le ferite di guerra quindi questa è un po' la situazione che vi riporto e ringrazio tantissimo di cuore per questa email poi parleremo anche di altro a proposito della situazione in Romania ma finiamo prima con l'Ucraina questo è un po' il punto della situazione oggi fra controlli incrociati che posso dirvi di rapporti fra il The Institute of War e il Kiev Post in cui appunto ci sono alcuni progressi intanto vabbè questo l'abbiamo già detto il rublo sta in caduta libera si sta sciogliendo l'Ucraina come ho appena detto respinge le richieste di abbassare l'età della leva obbligatoria a 18 anni per mancanza di armi per equipaggiare i soldati già mobilitati un milione di ucraini sono rimasti senza elettricità dopo l'attacco di questa notte c'è da dire fra l'altro c'è anche da anticipare alcuni discorsi diplomatici fra Ucraina e Polonia che potrebbero portare a degli sviluppi molto interessanti eventualmente si parla probabilmente di truppe schierate sul campo o forniture supplementari da parte della Polonia insomma questa è la situazione parliamo poi della situazione sul campo oggi stranamente non ci sono grandi cambiamenti anzi per niente devo dire che la situazione è molto molto stabile voi forse ci stiamo già avvicinando una situazione di congelamento può letteralmente nel senso voi per la neve per il freddo ma non ci sono stati grossi cambiamenti nella regione di Kursk salvo appunto ieri e altro ieri alcuni mezzi russi distrutti gli attacchi con missili russi che vengono riportati uno proprio ieri non ci sono grandi cambiamenti per mille e rotti chilometri al fronte solo un piccolo minuscolo progresso da parte russa nella regione nell'area di Toresk come vediamo qui si è allargata la loro zona di controllo in questi quartieri questo è quanto questa è un'altra piccola avanzata russa in questi altri quartieri sempre poco a sud di Toresk nella direttiva principale verso Pokrovsk non ci sono stati grossi cambiamenti una leggera espansione del controllo russo aggiornata al 27 su questa strada con questi due filari di alberi e anche più a sud stranamente oggi non ci sono rapporti di progressi da parte russa nell'area che vi sto mostrando per quanto riguarda le immagini satellitari che avrei voluto mostrarvi dato che ieri vi ho parlato di un attacco presso l'aeroporto di Sevastopoli i dati aggiornati sono al 26 quindi non ci sono ancora dati per quanto riguarda eventuali aeroplani o strutture dell'aeroporto colpito lo stessa cosa vale poi per quanto riguarda l'aeroporto di Kursk che c'è una copertura di nuvole che impedisce di fare qualsiasi rilevamento sono arrivate alcune informazioni aggiuntive nel senso che i video che mostrano gli attacchi con i missili a TACMS sulla superficie sono stati geolocalizzati quindi l'osservatore che ha realizzato quei video un cittadino di Kursk si trovava in questa posizione e in base all'inquadratura è stato possibile determinare che i missili a TACMS ucraini hanno colpito in queste aree io vi avevo riportato in realtà questa un po' più a sud o ovest questo parcheggio qui molto meglio nel senso se effettivamente hanno colpito in queste tre aree è importante perché si trovano molti più aeroplani e probabilmente questo che vi sto mostrando questo dovrebbe essere la posizione del SA15 che è stato distrutto perché scusate non del SA15 dell'S400 distrutto di cui si sta parlando in maniera cospicua sulle varie fonti si sono visti i rottami di questo S400 e anche nei video in cui si vede l'attacco condotto degli ucraini si vedono partire i suoi missili nel tentativo di intercettarli a seguito poi ci sono state le esplosioni passiamo passiamo a notizie complementari sempre per la situazione in Russia c'è questo video di un soldato russo rientrato dal fronte e fa queste sue dichiarazioni spontanee non posso tradurverlo perché è veramente sboccato ve lo passo sotto così potete vederlo da voi fondamentalmente dice che è stato al fronte per due anni è riuscito a tirarsene fuori e non ha visto un soldo fa una vita da miserabile in povertà e se la prende con il governo dice che tutto quello che viene detto in televisione è pura propaganda che fa il lavaggio del cervello che se la bevono solo i vecchietti insomma è molto arrabbiato e ci credo voglio dire dopo quello che ha passato e poi non aver visto neanche un soldo e oltre al danno la beffa per rispondere a uno dei commenti come al solito non ne ricevo più tanti devo essere onesto perché la maggior parte di chi mi segue sono persone straordinarie che capiscono insomma il mio metodo però ecco come al solito qualcuno mi ha accusato di fare propaganda pro-Ucraina beh è bella è bella l'Italia è bello vivere in Italia che siamo un paese democratico con tutte le sue voglio dire le sue incertezze politiche le sue criticità però comunque nel nostro paese siamo ancora liberi di esprimere le nostre opinioni chi lo fa in Russia si becca sette anni di carcere questo è Alexei Gorinov un cittadino russo che è stato adesso qui a processo e durante il processo mostra un cartello in cui semplicemente dice basta uccidere fermiamo la guerra quindi per questo cartello rischierà altri anni di galera durante il processo capito questa è la situazione in Russia ok allora parliamo della situazione in Romania come sapete se l'avete sentito ci sono state le elezioni presidenziali ed è successo un fatto gravissimo quindi qui mi ricollego proprio alle influenze della disinformazione che noi le vediamo anche in Italia fra l'altro ci sono così tanti filorussi e anche per quello qui fra l'altro stendo davvero un velo pietoso sul lavoro mi collego anche a uno degli ultimi video dell'avvocato Francesco Catania che colgo l'occasione per salutare perché è vero che non seguo Youtube Italia però ogni tanto mi capita l'occhio su alcune pagine su alcuni canali e onestamente quando io vedo che lavorando tutti i giorni per mettere insieme le fonti i miei video se vanno bene fanno 7000 10.000 visualizzazioni quando vedo 40.000 visualizzazioni 150.000 visualizzazioni 300 500.000 visualizzazioni ora per darvi un'idea un video che fa 500.000 visualizzazioni stiamo parlando di qualcosa come 300 400 euro solo per quel video quindi tutte quelle visualizzazioni per gente che fa un lavoro di disinformazione e passa alle veline del cremlino sono davvero un furto non penso che sia giusto voglio dire e di questo non mi capacito onestamente è un po' triste davvero allora quindi parliamo della situazione romania e delle ingerenze da parte di un certo tipo di propaganda che si è svolta soprattutto su tiktok ok allora tiktok come sapete è una piattaforma cinese completamente fuori controllo il fatto che sia così diffusa in romania probabilmente è una questione di costume culturale sociale quello che è colgo l'occasione per salutare un carissimo amico che mi ha scritto proprio in questi giorni perché un po' ha un contatto diretto con la situazione perché vive lì è un italiano che vive in romania quindi colgo l'occasione per salutarlo grandissimo Tonino perché è sposato con una rumena e che vi anticipo giusto cercherò di sintetizzare quello che mi ha scritto mi ha scritto più mail mi ha detto guarda ti scrivo per metterti al corrente delle manovre della propaganda russa che come al solito ha fortemente ed illegalmente orientato le elezioni presidenziali in questo paese mia moglie dice rumena mi dice che si è addormentata una sera era europea e il giorno dopo era russa senza saperne le ragioni mi ha fatto fra l'altro scritto delle belle pagine in cui mi ha riportato quello che viene detto anche nella stampa rumena il presidente Ioannis ha convocato il consiglio supremo di difesa nazionale per analizzare i possibili rischi per la sicurezza nazionale generati dalle azioni di attori informatici statali e non statali sulle infrastrutture del paese la riunione del comitato di sicurezza è fissata domani ore 14 nel frattempo si stanno svolgendo manifestazioni avverse a Georgescu ora Georgescu ve lo mostro questo personaggio che per collegarmi sempre alla nostra live con Maria è il classico populista filo putiniano lei ha detto chiaramente mi ricordo le sue parole siamo in un mondo dove il populismo continua a vincere e il che è drammatico e qui mi collego anche alla libertà di pensiero il pensiero indipendente che dovrebbe esserci oggi con tutte queste informazioni disponibili e poi alla fine le persone ci cascano i discorsi che ha fatto Georgescu in questa intervista sono quelli del tipo perché noi stiamo aiutando l'Ucraina dovremmo permettere al nostro paese di restarne fuori non sono affari nostri that is not our business non sono affari nostri quindi insomma questi sono i suoi ragionamenti parla sicuramente poi di confini parla del fatto che la Romania è una nazione che non si deve intromettere in questa guerra eccetera eccetera in tutto questo le influenze le ingerenze da parte appunto di canali come tiktok erano pesantissime in questa paginetta vediamo per esempio solamente alcuni dei canali associati a lui vedete Colin Georgescu 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 tutti questi 30.000 followers 1700 followers 400 followers e via così tutte queste pagine così come è avvenuto anche in Italia generate sia attraverso sistemi informatici governati da bot sia da persone che fanno questo in continuazione l'altro ieri proprio ieri vi parlavo anche di questo perché la stessa cosa avviene per l'Ucraina basta aprire una qualsiasi ricerca su sull'Ucraina e questo poi vedete i risultati è pieno anche di profili italiani falsi o meno falsi che fanno questo tipo di disinformazione questo fenomeno è stato talmente evidente in Romania che ha influenzato le elezioni come vedete i risultati erano del 21,99% con 1.588.000 votanti per Georgescu capito come siamo messi quindi davvero una situazione complicata questa è la reazione di un cittadino rumeno appena ha visto i risultati delle elezioni sentite un po' che cosa fa prende la televisione e la butta dalla finestra giustamente ci sono state e ci sono manifestazioni in tutta l'Ucraina per queste elezioni fortemente influenzate da quello che sto capendo le elezioni sono state annullate proprio perché sono stati assodati ingerenze non gradite che minano la sicurezza stessa nazionale e questo insomma è grave quindi ora la situazione è questa ed è molto complicata quindi grazie davvero di cuore Tonino per questa tua mail fammi sapere se ci sono ulteriori sviluppi so che anche altri di voi mi avete scritto nei commenti stanno seguendo la situazione quindi vedremo adesso cosa accadrà ha scritto fra l'altro ho raccolto anche qualche dato che potrebbe esserti utile rispetto all'organizzazione politica rumena di cui non solo me ne sono occupato per dieci anni che sono qui ma di cui sento grave la carenza della conoscenza linguistica infatti lui segue un po' la televisione i telegiornali insomma qualcosa ecco mi scrive questa cosa che è importante dice che sono tre giorni che la borsa in Romania sta crollando stiamo valutando anche l'opportunità di oscurare TikTok da dove sono passati inosservati da chi avrebbe dovuto farlo in milioni di messaggi di più di 5.000 profili diversi che hanno influenzato la popolazione quindi sì poi queste magari domani cercherò di integrare altre informazioni grazie di nuovo Tonino e quindi per questo per oggi è tutto come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un abbraccio alla prossima grazie a tutti